Vi diamo lettura di una lettera a firma di Salvo Randazzo e leggiamo testualmente Cari amici e cari concittadini, sento il dovere morale di restituire un messaggio veramente sentito non retorico a voi che mi avete supportato, incoraggiato e sopportato per dieci anni nell'impegno preso nel 2012 di portare sempre in alto l'interesse della comunità di trappeto Come ormai avete avuto modo di apprendere il percorso politico intrapreso e proseguito sempre insieme all'interno dell'istituzione comune di trappeto, subisce un'interruzione a causa di condizioni che non si intersecavano con il mio modo di far politica In questi anni ho cercato di contraddistinguere il mio impegno non proseguendo mai per facili strade ma cercando di superare tutti gli ostacoli che rendevano impervio il percorso che avrebbe portato trappeto nella giusta direzione, nella direzione delle migliori soluzioni Stavolta però non ci sono riuscito e ci tengo a sottolinearlo Lo sottolineo perché penso che gli errori ci possano stare nella vita e anche nella politica e dare colpi agli altri senza avere la capacità di fare autocritica lo ritengo sempre sbagliato Farò bagagli degli sbagli compiuti e cercherò di elaborarli per acquisire maggiore forza Rimangono dieci anni vissuti intensamente e con dedizione e con la voglia di fare ed esserci Ho ricoperto importanti ruoli grazie alla vostra fiducia Ho esaudito il grande desiderio nato sin da bambino di impegnarmi in maniera diretta per la nostra comunità Sono stato sempre suffragato da numerosi consensi che mi hanno spinto ancora di più a rendere concreti tanti sogni e progetti per tutti noi I nostri dieci anni, continuo a randazzo di dirigente lavoro, credo si siano fondati su importanti risorse che provenivano dal basso e che non hanno nomi ma anima, cuore, pulsioni che rimangono e rimarranno a disposizione della comunità tutta per un futuro veramente migliore Che invogli i giovani a rimanere sulla nostra terra e gli adulti a poter scommettere per chi verrà dopo di noi Tengo a ringraziare tutti voi, gli amici che mi hanno sempre sostenuto e sempre mi sostengono Chi non mi ha lasciato mai solo, chi mi ha criticato fortificandomi Chi mi ha sbattuto la verità in faccia, chi non si è mai girato dall'altra parte È la mia famiglia tutta, la quale ha sempre assecondato e rispettato le mie scelte volte al bene del nostro amato paese L'impegno non verrà a meno, conto di poter dare ancora il mio modesto contributo insieme a voi tra le strade e tra i vicoli del nostro sogno Questa era una lettera a firma di Salvorandazzo Grazie a tutti